benvenuti alla presentazione del corso di architettura tecnica che si tiene al secondo anno del percorso di studi di ingegneria edile erogato dal dipartimento di catec del politecnico di bari chi vi parla è emilia conte docente del corso studenti studentesse che frequentano questo corso acquisiscono le conoscenze disciplinari di base della tecnologia edilizia e imparano a progettare gli oggetti edilizi nell'ottica della sostenibilità e nel rispetto della complessità che caratterizza il mondo reale l'obiettivo principale del corso è sviluppare negli studenti e nelle studentesse una capacità critica di valutazione e progettazione dell'organismo edilizio supportata dallo strumento tecnico perciò alle lezioni si affianca anche un'attività pratica di progettazione. L'organizzazione didattica del corso prevede dunque lezioni i cui contenuti disciplinari sono trattati con grado di approfondimento variabile in relazione agli obiettivi del corso e a quanto già trattato da corsi precedenti e che si tratterà in corsi successivi. È un'attività pratica finalizzata alla progettazione di un organismo edilizio a destinazione residenziale di tipo unifamiliare per la quale si chiede a studenti e studentesse di produrre elaborati sia individuali sia di gruppo. Per capire meglio quello che facciamo e come lavoriamo in questo corso è opportuno riferire alcuni elementi chiave del scenario delle nostre attività. Nell'ambito del processo edilizio definito come una sequenza organizzata di fasi che portano dal rilevamento delle esigenze della committenza utenza di un bene edilizio al loro soddisfacimento attraverso la progettazione, la produzione, la costruzione e la gestione del bene stesso. Noi ci occupiamo della fase relativa alla progettazione che come vediamo è soltanto una delle molte fasi del processo edilizio trattato anche in altri corsi. La progettazione fa parte di quello che possiamo definire il sottoprocesso decisionale del processo edilizio e influenza tutta la vita utile dell'organismo edilizio. Quando progettiamo infatti prendiamo decisioni basate sulla conoscenza. Partiamo da un sistema di esigenze come abbiamo detto che traduciamo in requisiti che deve avere l'edificio. Tali requisiti sono sia ambientali sia tecnologici. I requisiti ambientali sono relativi a dimensioni, geometria, posizione reciproca degli ambienti attraverso cui definiamo lo spazio costruito e come esso può essere utilizzato. I requisiti tecnologici sono relativi a modelli di funzionamento delle componenti costruttive dell'edificio attraverso cui definiamo le soluzioni tecniche da adottare nello specifico progetto. L'esito di tale attività decisionale è appunto il progetto dell'edificio che una volta costruito e realizzato risponderà con le sue prestazioni alle esigenze espresse dalla committenza utenza. Tutto questo sarà possibile nel modo più corretto e appropriato se l'edificio non sarà pensato e progettato come sommatoria di parti, quanto piuttosto come un organismo edilizio, cioè un sistema costituito da un insieme strutturato di elementi spaziali e di elementi tecnici interni ed esterni pertinenti all'edificio caratterizzati dalle loro funzioni e nelle loro relazioni. La nostra attività deve essere condotta nell'ottica della sostenibilità. Gli obiettivi di sostenibilità sono obiettivi globali e investono ogni attività umana, in ogni dove nel mondo. Noi orientiamo le nostre attività alla sostenibilità edilizia, come ci chiedono le normative sovranazionali, nazionali e regionali, e orientiamo il progetto a obiettivi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico. Operiamo quindi nella logica dei cosiddetti edifici ENZEB, cioè gli edifici energia quasi zero, in cui innanzitutto si abbassa notevolmente la richiesta energetica e poi si ricorre a fonti rinnovabili di energia per la minima richiesta residua. Senza dimenticare un altro aspetto essenziale del progetto degli edifici, che è quello di rendere lo spazio costruito fruibile a tutte le persone, qualunque siano le abilità di ciascuno. E poiché l'uso dell'organismo edilizio dipende dalle decisioni assunte in fase di progettazione, capiamo quali siano le responsabilità del progettista. Delineato lo scenario di azione delle nostre attività, vediamo quali sono i contenuti delle lezioni trattati, come già detto, con diverso grado di approfondimento. Si inizia con i materiali da costruzione, che nel corso di architettura tecnica vengono esaminati in funzione dell'impiego in edilizia, per usarli in modo appropriato alle loro reali attitudini, senza dimenticare di valutarne il profilo ambientale. Prima vengono trattati i materiali adatti all'uso strutturale, come i materiali lapidei, il legno e i derivati, i materiali ceramici, in particolare i laterizi largamente utilizzati in edilizia, i materiali metallici, in particolare l'acciaio, le malte, il calcestruzzi e il calcestruzzo armato, e poi i vetri, in particolare per gli infissi, le materie plastiche e i materiali isolanti, per il contributo che possono dare le prestazioni dell'organismo edilizio. Capito come possono essere impiegati i materiali in edilizia, si trattano le componenti dell'organismo edilizio interpretato come un sistema. Innanzitutto la struttura portante che è in questo corso, si studia per gli aspetti che influiscono su sistemi ambientali e tecnologici da curare nel progetto, trattando sia la struttura di elevazione, sia la struttura di fondazione e il rapporto tra la struttura di elevazione, la struttura di fondazione e il terreno. Poi si trattano con maggior dettaglio le chiusure degli edifici che delimitano gli spazi interni dell'organismo edilizio dall'esterno e pertanto devono rispondere a requisiti di tenuta all'acqua, controllo dell'umidità, difesa termica e difesa acustica. Si studiano le chiusure verticali entroterra e fuoriterra, le chiusure orizzontali inferiori, le chiusure orizzontali su spazi aperti, le chiusure superiori, sia a orizzontali piane sia a falde e si studiano gli infissi che sono parte delle chiusure dell'organismo edilizio. Si trattano anche le partizioni interne che definiscono gli spazi interni all'organismo edilizio e si studiano sia le componenti orizzontali sia le componenti verticali perché soddisfino tutti i requisiti richiesti all'uso dello spazio interno. Qualche lezione infine dedicata alle componenti impiantistiche necessarie per il funzionamento dell'organismo edilizio fornendo cenni per esempio sull'impianto di adozione dell'acqua, sull'impianto di smaltimento dei reflui, sull'impianto di smaltimento delle acque meteoriche, sull'impianto di riscaldamento e di raffrescamento e infine sull'impianto di sollevamento, cioè gli ascensori. Come precedentemente detto parallelamente alle lezioni si svolge un'attività di progettazione condotta settimana per settimana mettendo in pratica le conoscenze acquisite attraverso lo studio teorico. Per questa attività vi sono alcuni elaborati da produrre individualmente e elaborati di gruppo relativi al progetto di edilizia residenziale unifamiliare. Qui vediamo l'esempio di una tavola che raccoglie i diversi elaborati grafici richiesti che vanno dalla planimetria dell'insediamento residenziale alle piante redate, alle piante quotate, alla sezione e ai prospetti. In quest'altra diapositiva vediamo l'esempio di una tavola che raccoglie invece i particolari costruttivi delle chiusure e delle partizioni dell'organismo edilizio che si studiano nel dettaglio per evidenziare le scelte di progettazione, in particolare le scelte relative alla difesa termoacustica, la tenuta all'acqua, il controllo dell'umidità. Al progetto si accompagna una relazione tecnica sintetica che riferisce l'approccio utilizzato nel progetto e le prestazioni attese per l'organismo edilizio progettato. Per lo studio teorico come anche per l'attività di progettazione vi sono testi di riferimento, quelli essenziali sono elencati in questa diapositiva senza trascurare norme e regolamenti vigenti. Se volete conoscere di più sul programma di questo corso potete consultare la relativa pagina sul sito web del Politecnico, se avete qualche ulteriore curiosità potete consultare la pagina web docente nel sito di dipartimento o contattarmi direttamente all'indirizzo email istituzionale. Grazie per aver mostrato interesse per questo corso.